Domani presenterò la nuova ordinanza. Non cambia nulla che sia scaduta ieri sera, perché l'ordinanza nostra ha un'efficacia soprattutto ai fini di settimana, questo lo sapete. Per quanto riguarda la scuola, il CTS non ha mai dato il suo assenso, vi ricordate l'ordinanza c'era scritto lezioni con strumenti a fiato, attività motoria, previa autorizzazione del CTS, il CTS ancora non si è espresso, per cui è inefficace questo aspetto. Domani presenteremo ordinanza in maniera più completa, alla luce del fatto che domani scade anche l'ordinanza rispetto alla fase di test di tamponi con i medici di base. Quindi domani cercheremo di mettere in fila tutti i provvedimenti in maniera tale che riusciamo a risolvere anche il tema delle ordinanze, sicuramente ripresentandole, cercando di interpretare meglio, visto anche alcune segnalazioni, alcuni aspetti che la prevenzione ha valutato, eccetera, magari di fare degli aggiustamenti che siano rispettosi di chi lavora, ma che siano anche rispettosi della salute pubblica.